Sono oltre 80 i giornalisti minacciati dall'inizio dell'anno, un fenomeno in costante crescita. Il Lazio tra le regioni con il maggior numero di atti intimidatori. Questa mattina nella sede della Federazione Nazionale della Stampa il Presidente Giulietti ha consegnato un dossier al Vice Ministro degli Interni Mauri. La richiesta unanime è quella di non abbassare la guardia. Sentiamo. È fondamentale tenere alta l'attenzione perché c'è sempre di più un crescendo di chi vorrebbe attraverso le minacce metterci il bavaglio e farci stare in silenzio. C'è un'attenzione grandissima da parte delle forze dell'ordine e della magistratura per combattere questo fenomeno e per difendere anche fisicamente con la scorta i giornalisti minacciati. Minaccia di morte, di minaccia di stupro, di aggressione, di antisemitismo. Sono tutti reati. Abbiamo posto una sola domanda. Sino a quando si continuerà a far finta di nulla e a considerarle liberi opinioni o quando finalmente si comincerà a considerarli reati contro la Costituzione italiana?